Chiede alla magistratura di agire con forza e velocità anche il Comitato e l'Associazione Salute e Vita che ricorda che l'area dove è avvenuto lo sversamento di liquidi rientra in una zona di interesse comunitario. Da tempo l'Associazione Salute e Vita chiede attenzione per l'inquinamento atmosferico e ambientale della zona e teme una nuova bomba ecologica dopo le preoccupazioni già legate alla presenza delle fonderie Pisano. Unesima bomba ecologica, quella delle cotoniere che ci lascia profondamente colpiti e sconvolti perché ci chiediamo innanzitutto come sia possibile che dopo 20 anni, dalla fine delle attività e dopo aver costruito un centro commerciale, una parte della zona che anche all'epoca contestammo come variante di costruzioni del raddoppio dell'indice di edificabilità, come sia stato possibile che nessuno ha vigilato che si facesse prima la bonifica, mettesse prima in sicurezza il territorio e poi si facesse costruire. Ci sembra paradossale. Ma questo la dice lunga sul fallimento delle politiche fatte in quegli anni, nel 2003 e nel 2006, con il raddoppio, quindi una colata di cemento di indice a lettieri, all'imprenditore lettieri, all'MCM e con la scelta di dare una certa premialità a Pisano, entrambe le due aziende sono lì a creare un rischio grave per la popolazione. Come Comitato come controllerete su questa situazione? Ci si attende la messa in sicurezza con urgenza, lo chiedono anche i vigili del fuoco nella relazione, si attende però anche l'esito delle analisi dell'ARPAC. Il Comitato cosa farà? Beh, innanzitutto chiediamo chiarezza alla magistratura e faremo anche delle lettere ufficiali via PEC a tutti gli organi, sia per sapere che cosa l'ARPAC ha trovato nel fiume Isno, che già è stato martoriato. E già ricordiamo che nel 2014 l'ARPAC trovò solo a Valle delle Fonderie Pisano metalli pesanti che provenivano dalle fonderie dieci volte superiori ai limiti di legge, quindi già quel fiume ha dato negli anni, prima con le cotoniere, con le fonderie e con altre aziende che probabilmente hanno sempre danneggiato quella zona protetta, zona sicca, Grazie.